Che sai se Charminter e Bulbasaur spawnano così, cioè, in questo modo, come... come Pikachu? Eeeh... io c'ho Charmino nel 20 OH! Bulbasaur! Esiste? Esiste! Ehm... ok, bro, aspetta un attimo Dove sei? Qua, sempre una rottuno Così, da nulla, regà! Un Bulbasaur rosso! E cacciamo Oddishio, chiaramente si allena Bulbivo 5% Pokémon Saved, Trader Up, livello 10 e Pazzaef, cazzo è mazzi, va bene Sì, Bulbasauros, preso, staviamo 3 e Best of Cache in... in questo gioco Signor, chiaramente il Matthew del Futuro ve le preparo, non vi dico quando usciranno Abbiamo video programmati fino a giugno, quindi capite bene, no? L'ordine... non ho idea di quando effettivamente sarà Ciao! 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 Grazie a tutti.